Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video Oggi siamo su una top 5 delle funzioni nascoste di Xenoverse 2 Ma non sono delle funzioni che comunque tutti quanti sanno o che possono vedere Sono delle funzioni che si trovano dentro i file di gioco Quindi personaggi nascosti, moveset nascosti, cose che comunque persone normali non capirebbero E ve le spiegherò appunto durante il video Ed inoltre volevo scusarmi con voi perché ultimamente il canale è stato un po' incasinato durante questa settimana Sia per le feste sia per dei problemi al pc Domani non so se uscirà il video che deve uscire oppure se uscirà Battles per problemi di tempo Quindi non lo so ragazzi, vi farò sapere sicuramente su Discord o su Telegram, penso Telegram quindi entrate E niente, detto questo, io spero che il video vi piaccia, buona visione A quinto posto abbiamo due funzioni molto ambite dai fan Ovvero la possibilità di usare tutti gli stage del gioco per il multiplayer locale E la possibilità di fare scontri con handicap, quindi ad esempio 2 contro 1 o 1 contro 2 O CPU vs CPU C'è un metodo spiegato sul mio canale, ho fatto un tutorial riguardo appunto a questi scontri Per gli stage ancora non l'ho fatto e non penso di farlo Comunque parliamo appunto di queste due funzioni Tramite una mod è possibile giocare con tutti gli stage del gioco tramite il multiplayer locale Ovviamente non per esempio la namicella di Freezer Ma gli stage utilizzabili nella modalità normale di combattimento appunto Tramite questa mod però c'è un piccolo problema Ovvero che i contorni si restringono E quindi praticamente ci ritroviamo con degli stage talvolta buggati O comunque con dei contorni troppo piccoli Proprio perché nel multiplayer locale per non fare la mappa dispersiva Hanno ridotto i confini Inoltre è possibile fare tranquillamente Dei scontri con degli handicap oppure CPU contro CPU Il metodo consiste in poche parole In creare uno slot vuoto E farlo caricare al gioco In dei scontri appunto 2 contro 2, 3 contro 3 e così via E quindi si possono fare dei scontri ad esempio con la CPU La funzione è perfetta Cioè funzionano senza nessun intoppo Funzionano bene Ecco non è una cosa che non hanno messo perché c'erano dei problemi Ma che non hanno messo appunto per motivi X Comunque si sono due cose Due scoperte molto interessanti E che di sicuro sono molto fighe da conoscere Al quarto posto abbiamo una funzione Per meglio dire dei personaggi Che tutti quanti avrebbero voluto su Xenoverse Sono affrontabili Si trovano nella storia e nelle missioni parallele Avete capito tutti di chi sto parlando Sto parlando delle grandi scimmie Le grandi scimmie sono interamente giocabili Se aggiunte tramite appunto i vari tool del modding E hanno skillset, moveset Funzionanti al 100% Funzionano con la stessa meccanica che abbiamo Nella modalità storia e nelle missioni parallele Infatti se il vigore viene esaurito Si viene colpito Infatti si diventano vulnerabili Se affrontati compaiono come dei boss Infatti sono tali appunto E devo dire che Si Potrebbero pure starci nel roster Però diciamocelo chiaro Sono ingiocabili La telecamera è fatta male Ma si dovrebbe sistemare questa Se un giorno dovesse raggiungerli come personaggi Ma ne dubito Inoltre sono lenti E Fare uno scontro Contro dei personaggi normali Sarebbe un suicidio Infatti sarebbe a mio parere Giusto bilanciarli Se dovessero essere raggiunti Al roster di Xenoverse 3 ad esempio Anche se personalmente ne dubito Una scoperta molto carina Che personalmente mi ha fatto sorridere Quando l'ho vista Al terzo posto abbiamo qualcosa Che fin da piccolo Ho sempre voluto da un gioco di Dragon Ball Ovvero L'aggiunta di personaggi che Anche se non potrebbero combattere Tecnicamente Vengono resi giocabili Questo è il caso di Xenoverse 2 Infatti personaggi come Kaioshin del Tempo Kaioshin il Sommo Bulma Junurana L'anziano Saggio La nave Saiyan Jill Il robot di Conton City Sharon Toki Toki E Vegito Caramella Ce ne sono anche altri Ma personalmente ora non li ricordo Tutti questi personaggi sono giocabili Anche se non direttamente Infatti bisogna fare qualche piccola patch Aggiungere il Portrait Sistemare qualche piccolo bug Quella Però comunque diciamo che sono Per lo più giocabili Hanno un moveset se non custom Ma comunque Lo prendono da altri personaggi appunto E sono funzionanti Questa è la cosa bella Alcuni di questi personaggi quindi Sono stati inseriti con il DLC 5 E hanno uno shading aggiornato A quello di Xenoverse 2 E provengono appunto da Xenoverse 1 Si trovano nella storia di Xenoverse 1 Ma di questo ne parleremo dopo Abbiamo una medaglia d'argento Per una cosa che già avevo anticipato Ovvero i personaggi di Xenoverse 1 Quest'ultimi sono presenti nel gioco Ad esempio dei migri e vari Villainous E sono funzionati al 100% Prima di tutto Alcuni già erano presenti dal rilascio del gioco Come ad esempio Villainous Infatti ho tempo fa Le aggiunse al roster Tramite il tool per installare le mod Hanno le skill funzionanti Le statistiche pure E pure Laura Sono tranquillamente i personaggi Villainous Da Xenoverse 1 Aggiornati Se non erro con lo shading E poi abbiamo Demigra Al tempo del rilascio C'era solamente il portrait E i riferimenti a lui Ne fa il di gioco Non c'era un modello E non c'erano le skill Con il DLC 5 Sono state inserite quest'ultime Insieme alle varie cose mancanti Quali il modello e il moveset Insieme ad una cosa Che andremo a vedere nel primo posto Personalmente mi aspetto tanto Da questa aggiunta Mi accontenterei di un Demigra giocabile Insieme agli altri Villainous Riresi giocabili Proprio perché la forma gigante A quanto pare Su Xenoverse non vogliono metterci Delle forme giganti Però ci può pure stare Dato che comunque sono sbilanciate E hanno i moveset incompleti Quindi niente raga Speriamo bene E speriamo che la Dems Finalmente faccia qualcosa Di figo ecco Ah che bello Finalmente siamo arrivati al primo posto Al primo posto troviamo L'intera storia di Xenoverse 1 Nessuno poteva immaginarsi appunto Che all'interno del gioco Fosse presente L'intera storia del capitolo precedente Anche se questa affermazione Non è al 100% corretta Perché la storia Si è presente Ma non è giocabile Inoltre Non è Stata aggiunta al rilascio Ma è stata aggiunta Con il DLC 5 Come ben sappiamo Su Switch G è giocabile La storia del vecchio Xenoverse Che magari nel DLC 6 Aggiungano La storia giocabile Per tutti quanti Nell'aggiornamento gratuito Con tanto di Demigra E di Lenus giocabili Di sicuro sarebbe un'aggiunta Che farebbe goal A tanti appassionati E che di sicuro Animerebbe un po' le cose È interessante notare Come non solo è presente La singola storia Ma è presente pure La storia del DLC Le musiche Le cutscene I personaggi E le varie texture E le varie cose I vari elementi Ecco E secondo me Non è una cosa a caso Se hanno aggiunto quella storia È proprio per metterla nel DLC Luigi Deems Finalmente fatto una bella mossa Poi magari non la mettono E tutti quanti Non ci rimaniamo di merda Ma Speriamo bene con il DLC 6 Dai Ragazzi Il video finisce qua Spero che questa top Comunque vi sia piaciuta Perché personalmente Penso di aver messo Delle robe abbastanza interessanti Perché comunque Non penso che molti Sapevano queste cose Proprio perché comunque Sono delle cose abbastanza Taricolette Nascoste Non sono tanto user friendly Da trovare Quindi ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Qui sotto nei commenti Della top Se vi piacerebbe vedere appunto Demigra I personaggi di Xenoverse 1 Portati su Xenoverse 2 Con tanto di modalità storia Cosa che penso che verrà fatta Più che altro che penso Spero E niente ragazzi Vi invito a lasciare mi piace A commentare il video A condividerlo con i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Attivate la campanella Per avere tutte le notifiche Che riguarda i video Seguitemi sia su Instagram Sia su Facebook Dove pubblico degli aggiornamenti Delle piccole cose sul canale Inoltre entrate nel gruppo Telegram E nel gruppo Discord Che trovate qui sotto In descrizione Potrete parlare con me E gli altri The Riddles Detto questo ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo video Di una prossima live Un saluto Un saluto da Ferraz Bella